Chi ieri notte si è collegato su Mediaset Extra, avrà probabilmente creduto di trovarsi davanti ad un reboot di Intrighi e Passioni o di The Lady, con le immagini di Lorenzo Spolverato impegnato in un surreale monologo. Avvindiato a Shai la gatta, il GFino ha iniziato a raccontare di come Elena Prestes lo veda come un idolo, un dio, e di come Maria Vittoria lo osservi mentre è in costume. Una prova recitativa degna di quella di Daniele Interrante e Costantino Vitagliano in quel capolavoro cinematografico che è troppo belli, un momento così trash e assurdo che fa il giro e diventa ipnotico e poetico, un delirio narcisistico potentissimo. Tantissima stima per Shai la gatta che è rimasta seria durante tutto questo strampalato soliloquio di Lorenzo Spolverato il Dio. Lorenzo Spolverato, Elena mi vede come un idolo, un dio, l'io l'ennesima ragazza che si scioglie per me, Elena si scioglie. Lei vede in me un idolo, un dio, passa tutti i giorni con me. Eppure io arrivo a pensare, però aspetta, basta con questi flirt. Sì ok io sono uno charma. Hai presente cosa significa charma? Quello che è molto carismatico, colui che anche inconsapevolmente prende il dono del piacere dall'altra persona. Io sono questo, sono così, è vero e lo so. Ma poi ho pensato, sarebbe bello rendere questo esclusivo per una sola donna. E Dio, perché, cosa Elena che io posso portarmi fuori? E lì mi sono detto che non era lei, ma eri tu. Ma non solo Elena, io qui sarei potuto andare avanti con altre. Quelle che voglio qui, ma c'era questa cosa, mi sono detto, con questa Shaila ci sono le scintille, perché non le ascolti? Oggi è venuta Maria Vittoria da me, ma non so perché. Io le ho chiesto se le mancava Tommaso, e lei mi ha detto che con lui non c'era nulla. Poi mi ha detto, non ti nego che mi manca la sua compagnia, e non ti nego che quando vedo te in costume penso anche a lui. E io non ho capito, perché il costume come il mio cela anche Giglio. E io non ho capito, perché non ho capito, perché non ho capito, perché non ho capito.